O Madre Assunta in cielo, a noi, a voi con Santo Zeno, noi vittoriamo. Tre canti della tradizione e un omaggio floreale in occasione della Santa Messa alla Chiesa di San Giuseppe hanno preso il via domenica sera ai festeggiamenti per la Madonna dell'Assunta. Una devozione, quella dei nisseni, verso Maria molto sentita, tant'è come ha ricordato padre Salvatore Lovetere durante la funzione religiosa che in città esistono molte chiese alle dedicate e documenti lasciati dagli avi che testimoniano la devozione attraverso preghiere recitate e cantate. Preghiere che i fedeli reciteranno e canteranno durante la quindicina, ovvero le celebrazioni mariane in preparazione della festa del 15 agosto, quando il simulacro della Madonna Assunta sarà portato in processione accompagnato dalle note della banda musicale Sicilia in Musica. Con il Comitato Feste abbiamo organizzato questa altra bella manifestazione religiosa che il popolo nisseno sente nel proprio cuore e avremo modo di vedere la parrocchia San Giuseppe piena con la gente che devotamente si lascia guidare da Maria Santissima attraverso il canto popolare e attraverso quello che i nostri padri ci hanno lasciato. Difatti abbiamo realizzato un librettino con le preghiere, con i canti e con tutto ciò che riguarda appunto la festa della Madonna Assunta in cielo per dare possibilità alla gente stessa di poter pregare insieme e di poter avere questo canto unisono per poter sempre più celebrare le meraviglie di Dio attraverso una creatura che è Maria Santissima che ci permette ancora una volta di dirci di avvicinare sempre più a Dio come Padre e a Cristo Gesù come Figlio per essere autentici e nel suo tempo per essere testimoni della grandezza di Dio. In questi 15 giorni insieme con il Comitato Feste abbiamo pensato momenti celebrativi intensi, mariani e poi qualche altro momento di fraternità che ci permette di poter condividere insieme quello che è lo specifico della testimonianza nella carità e questa parrocchia San Giuseppe è chiamata ad accogliere ma anche a condividere appunto la carità quindi i momenti di fraternità saranno motivati appunto da questa attenzione verso le persone e verso anche coloro che hanno di bisogno.